Avrei voluto raccontare il mestiere di posatore, ma quel signore si è spaventato. Dicevo perché l'errore è mio nel senso che non sono stato... ho iniziato male. Signore, proprio... vabbè, il mestiere di posatore mi sarebbe piaciuto tanto e magari lo metterò a pazienza. Qualcuno è rimasto, eh? Dicevo quando quel posatore sono partito troppo fuori e proprio non mi ha ascoltato. Non mi ha ascoltato. Avrei voluto chiedere. Si parla tanto del reinserimento di chi esce dalle carceri. Allora, la mia domanda era... sarebbe stata... Per una persona, per l'appunto, per l'appunto che è stata in carcere, quanto è difficile, o quanto è facile, appunto, riuscire a imparare il mestiere di posatore. Questo era il senso. Sono partito da lì. Il signore, purtroppo, insomma, ha pensato che accostassi a lui la professione di escarcerato o giù di lì. Chiusa parentesi. Il pazienza. Grazie.